Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso in direzione Roma anche sulla 1 direttissima tra Badia e Aglio. Sulla 1 panoramica invece a causa di lavori si ricorda che fino al 28 febbraio rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Roncovilaccio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori si ricorda che sul raccordo Siena-Firenze sono in vigore restringimenti di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve Anchianti in entrambe le direzioni. Uno sguardo alla città di Firenze dove si segnala che via Luigi Pirandello è momentaneamente chiusa a causa di un ramo pericolante con possibili disagi alla circolazione. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!